Scusate se abbiamo insistito, ma la cosa è molto importante e delicata e per telefono lo sapete, altrimenti non ci saremmo mai permesso se non fosse per una cosa importantissima. Guagliù, ma guardate che cielo, che mare, ma vi sembra di stare alla vigilia di Natale? Effettivamente mi sembra di stare alla Hawaii, viene proprio voglia di fare un bello tuffo. Don Sabato facetemi questo piacere, guardate voi queste cose. Guagliù, ma io vengo a mare per rilassarmi e voi mi volete in tutto questo qua. Voi ve lo guardate, se poi non è come dico io, me lo pigliate e mi state a mano. Ahahahah. Ecco si fermiamo la spurtola. E andiamo, andiamo a vedere questa grande novità. Dove sta il computer? Sta in cabina. Grazie.